Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. L'argomento di oggi sono i treppiedi, quindi andrò a farvi vedere quali sono i treppiedi che io uso la maggior parte delle volte. Vi spiegherò anche perché li utilizzo, perché mi sono trovato bene, quali sono le caratteristiche e i punti di forza di ciascuno. Andiamo a incominciare. Partiamo dal mio preferito. Questo è il treppiede che utilizzo la maggior parte delle volte per i miei shooting. Si tratta di un Manfrotto con la sua bellissima custodia. Adesso andiamo a tirarlo fuori. Per tutte le specifiche di questo e degli altri prodotti vi rimando ai link in descrizione. Alcuni magari non mi starò a ricordare il nome, la cifra, la virgola. Quindi per tutte le informazioni vi rimando a dei link così siamo tutti più comodi. Questo qui è un bel treppiede. Non so se riuscite a farvi un'idea, ma è costruito bene. È molto molto solido e come potete vedere però non è gigante perché ci sta quasi intero nella ripresa. Qui abbiamo i nostri comandi per regolare la testa. Quindi abbiamo l'asse verticale, l'asse orizzontale, il tilt. Abbiamo tutto quanto. Questa qui è la manopola per ruotarlo. Qui non so se riuscite a vedere, ma c'è la bolla. Quindi se vogliamo tenere in bolla la nostra camera abbiamo anche la bolla per livellare. Qui abbiamo la rotella con cui possiamo tirare in su la nostra testa. E sulla parte bassa invece abbiamo sgancio rapido per liberare le gambette. Quindi questo è molto comodo. È un treppiede che arriva a una certa altezza perché arriva sostanzialmente quasi all'altezza dei miei occhi. Quindi è un treppiede che funziona pressoché in tutte le situazioni perché arriva bello alto. Se noi dovessimo volerlo utilizzare con la camera rivolta verso il basso possiamo fare anche quello perché possiamo smontare la testa e montarla al contrario. E quindi la camera può essere montata anche in basso. Questo è un treppiede dotato di piedini di gomma quindi è sicuramente adatto a scattare sia in interni che in esterni. Io lo vedo un pochettino più adatto agli interni personalmente perché con questo piedino è proprio in gomma quindi non graffia le superfici e è assolutamente adatto per essere usato in interni. E vi dico che questo per esempio è il cavalletto che io utilizzo quando faccio fotografia di interni e in particolare quando faccio fotografie di interni in location un po' particolari quindi location magari storiche con dei pavimenti o con dei tappeti importanti quando non bisogna rovinare le superfici non vado a usare un treppiede col piedino con la punta metallica per esempio vado a utilizzare un treppiede come questo che mi garantisce il totale rispetto delle superfici mi garantisce di non danneggiare le superfici su cui mi appoggio per andare a realizzare il mio shooting al tempo stesso mi garantisce una grande versatilità perché comunque abbiamo la possibilità di regolare separatamente gli assi quindi io posso fare quello che voglio con una testa come questa che è la testa di serie fornita da Manfrotto direttamente insieme a questo treppiede quindi era pacchetto unico uno potrebbe anche prendersi una testa che preferisce magari anche di terze parti quello non è un problema però questa qui era quella fornita insieme io comunque mi trovo molto bene uno dei motivi per cui mi trovo molto bene è che il grip è veramente ben fatto ovvero intanto è facile da svitare facile da riavvitare quindi nel momento in cui io voglio fare un movimento svito muovo e riavvito è molto facile e si blocca bene in posizione quindi di nuovo io svito rimetto in posizione qui abbiamo non so se riuscite a vederla c'è una ghiera che mi dice i gradi a cui ho orientato la mia testa quindi adesso torno a zero gradi così perché poi quando lo rimetto via lo rimetto via giusto poi non divento matto qui sotto c'è un'altra ghiera che mi dice la rotazione quindi io ho la possibilità di fare dei movimenti anche senza guardare in camera senza fare calcoli strani perché ho delle ghiere proprio che mi dicono a che punto sono quindi riesco a essere molto preciso anche senza guardare in camera e riesco a essere preciso anche mentre magari faccio dei movimenti se dovessi utilizzarlo per fare video posso utilizzarlo per fare una carrellata di 60 gradi o di 180 gradi perché vedo dove sono e vedo dove sto andando quindi anche questa è una cosa da non sottovalutare per come la vedo io questo non è un treppiede video perché non ha il grip per manovrare la camera è più un treppiede fotografico quindi io lo uso prevalentemente per fare foto però se lo devo usare semplicemente per fare un pan o un tilt lo posso anche fare perché posso regolare gli assi separatamente quindi quel movimento riesco a farlo in grande scioltezza punti di forza ulteriori cose che mi piacciono di questo treppiede sono innanzitutto che la testa è inclusa mi piace moltissimo il fatto che ci sia la sua borsa da trasporto inclusa nel prezzo dentro nella scatola è una cosa che non sembra ma serve perché questo portarlo in giro così nudo non è leggero è abbastanza pesante abbastanza ingombrante con la sua borsettina con la tracollina diventa già molto più comodo e lo si può anche mettere in una borsa più grande con dentro altra roba senza preoccuparsi che si prenda graffi comunque perché batte contro altre cose non sembra ma comunque anche se la verniciatura è resistente se noi lo buttiamo in borsa con degli altri stativi con delle altre cose metalliche dopo un po' ce lo troviamo molto segnato invece in questa maniera io cerco di tenere le cose meglio che posso in questa maniera rimane abbastanza pulito un'altra cosa che ho trovato carina è che c'è questo piccolo attrezzo che adesso vi faccio vedere separatamente questo è un anello che sostanzialmente si attacca sulla zampa quindi qui va dentro a clip e questo può servire per un sacco di cose perché possiamo attaccarci il filo possiamo attaccarci magari il cavo del controllo remoto possiamo attaccarci cose protesi, accessori della nostra fotocamera possiamo bloccarli con questo accessorio altre cose che in realtà noto adesso è che qui da un lato abbiamo la vite per regolare l'altezza sul secondo lato abbiamo un aggancio di un certo tipo e sul terzo lato abbiamo un altro aggancio ancora di un altro tipo questi sicuramente servono per essere usati in combinata con altri attrezzi sempre di manfrotto in maniera tale che magari si attacchino per il trasporto o cose del genere proprio come succede sugli stativi che sto utilizzando per reggere le luci sono stativi che vanno a due, si attaccano insieme e quindi diventa più facile trasportarli perché stanno insieme quindi si prende come se fosse un pezzo unico invece che due separati quindi anche quella può essere una comodità un treppiede come questo io lo uso pressoché in qualsiasi condizione perché è abbastanza pesante da non temere il vento è abbastanza robusto da reggere pressoché qualsiasi camera io abbia quindi qui sopra io ci monto tranquillamente una Canon 5D Mark IV con il 24-105 ci monto tranquillamente la Canon R6 sempre col 24-105 RF ci monto pressoché qualsiasi cosa specifico che non ho lenti molto lunghe non ho il 70-200 e superiori quindi non ho mai provato a montarci delle lenti più lunghe sono convinto che funzionino ugualmente perché comunque quelle lenti più sono lunghe più magari hanno un anello adattatore a metà della lente quindi non si va più a mettere la camera con una lente lunghissima che poi pesa ma si va a mettere la camera qui con il fermo lente qua e la lente che prosegue quindi il bilanciamento è corretto ed è dato dalla lente che ha l'anello con la vite posizionato più o meno a metà del barilotto funziona anche in quel caso perché comunque il peso lo regge l'unico problema potrebbe essere se abbiamo una fotocamera con una lente molto lunga che non ha l'anello montato sulla lente in questo caso la lente potrebbe portare tutto il peso in avanti e questo potrebbe essere un problema in quel caso potrebbero volerci sacchi di sabbia però salvo questi casi è un ottimo treppiede che funziona in tutte le condizioni lo si può usare tranquillamente all'aperto perché comunque non teme il vento non teme il peso lo si può usare in interni perché ha i piedini di gomma che rispettano le superfici non ha un ingombro molto ampio quindi si riesce a usarlo anche agevolmente l'utilizzo è assolutamente confortevole e insomma credo di poter dire tranquillamente che questo è uno dei migliori treppiedi che io abbia mai usato per quanto riguarda la fotografia perché poi per il video ci sono delle cose un pochettino più complesse un pochino più dedicate treppiedi più grossi per sopportare pesi maggiori quindi non è questo il caso qui stiamo parlando di un treppiede che per quanto mi riguarda funziona bene per la fotografia per il video anche io vado su qualcos'altro spesso e volentieri bene se con questo primo strumento vi ho un po' impressionato per via delle dimensioni magari preferite viaggiare un pochettino più leggeri forse gradirete questo prossimo amico vi sembrerà di star vivendo un piccolo déjà vu perché la custodia è pressoché identica però se ci fate caso questo è più piccolo perché non faccio nessuna fatica a mostrarvelo per intero in questo modo e adesso andiamo a estrarlo custodia semi rigida quindi anche questa qui è quasi imbottita non è niente male anche questa il fatto che ti diano la custodia inclusa è una cosa che a me piace sempre molto perché così non la devi comprare a parte è un vantaggio secondo me è indubbiamente un vantaggio allora questo qui è un treppiedino perché è piccolino è sempre di manfrotto non dico tascabile perché non è vero comunque questo è da zainetto una cosa del genere però è una via di mezzo che è molto molto comoda perché può montare una grande varietà di camere non giganti ovviamente qui come vedete c'è una testa sfera che viene fornita insieme al treppiede in questo caso è veramente pezzo unico nel senso che non vedo viti o bulloni di smontaggio o cose del genere quindi credo proprio che questo sia veramente pezzo unico quindi se vogliamo andare a utilizzare un'altra testa su questo treppiede dobbiamo probabilmente andare a smontarlo e sostituire tutto il perno centrale cosa che io non ho nessuna intenzione di fare perché a quel punto mi comprerei un'altra cosa infatti io attenzione non vado a montare roba pesante su questo su questo non gli vado a mettere una reflex non gli vado a mettere una full frame ecco non gli metto niente di pesante su questo gli vado a mettere magari una mirrorless della serie M di Canon gli vado a mettere qualcosa di un po' più piccolino questo qui comunque è un treppiede che di costruzione è robusto non è plasticoso comunque ha la possibilità di reggere del peso il problema è la testa perché non so se riuscite non so quanto bene riuscite a vedere questa ha una testa con una valvola a vite che serve ad attaccare varie fotocamere però è molto piccola la base ora essendo molto piccola questa base non dà molto sostegno quindi se abbiamo una camera con una lente molto pronunciata che pesa in avanti questo non mi dà tanta affidabilità rischia anche di sbelinarsi un pochino quindi non gli vado a mettere niente di troppo pesante ah perché non è il suo obiettivo questa è una soluzione che può essere di emergenza quindi magari sono in giro e mi ritrovo sul ponte vecchio di Firenze c'è una luna bellissima voglio fare una foto sì questo posso piazzarlo lì sul muretto del ponte lo tengo con le mani e gli metto su anche una camera un pochettino più grossa se voglio fare la mia foto bene ma è un'emergenza perché altrimenti andrei comunque con qualcosa di un po' più grosso in emergenza lo possiamo anche usare in questo modo altrimenti diventa comunque ottimo ed è infatti per questo che io lo uso come cavalletto da tavolo quindi se stiamo facendo dei B-roll se stiamo girando dei talking head o cose del genere se stiamo facendo magari della fotografia still life lo possiamo anche utilizzare in questo modo ovviamente anche questo è un treppiede pensato prevalentemente per la fotografia infatti questo ancora meno rispetto al precedente ha la possibilità di eseguire dei movimenti perché questo una volta che viene bloccato è fermo così e come vedete non ha maniglia non ha niente quindi non si possono fare dei movimenti camera fluidi con questo questo è proprio fatto per avere una situazione statica in cui si mette la camera in posizione e la si lascia lì quindi può servire per fare delle pose lunghe può servire per fare fotografia notturna se ci mettiamo su un muretto direi perché comunque ha dei piedini che si allungano e non è neanche cortissimo arriva all'altezza della pancia però non di più quindi non possiamo fare tutto quello che vogliamo quindi se lo mettiamo su un muretto è meglio quindi ce la giochiamo meglio e siamo magari anche più comodi che non dobbiamo stare ogni volta ad aprire tutto specialmente se stiamo fotografando il ponte vecchio tanto lì siamo pressoché costretti a utilizzare il muretto per appoggiarci ovviamente anche per questo piccolo amico vi metto il link in descrizione sono tutti prodotti che dovrebbero essere ancora in vendita quindi li trovate tranquillamente io li ho acquistati ormai da un po' di tempo sono comunque convinto che una linea di prodotti di questo tipo esista ancora per tutti i pezzi che vi faccio vedere oggi e sono comunque pezzi che si usano ancora questi sono dei sempreverdi non importa se stiamo usando reflex se stiamo usando mirrorless non importa che tecnologia stiamo usando perché il passo della vite è sempre lo stesso e quindi questi andranno sempre bene anzi man mano che le camere diventano sempre più leggere diventano tutti un pochettino più unisex questi cavalletti perché adesso su uno piccolo come questo una volta un'ammiraglia non si sarebbe potuta montare su questo magari le ammiraglie del futuro riusciranno a montare anche su questo perché saranno sempre più piccole sempre più leggere ma forse questo per voi è ancora troppo forse state cercando qualcosa di ancora più piccolo e di letteralmente tascabile allora questo può sembrare un giocattolino perché se ve lo faccio vedere così sembra veramente una cavolata questo è un treppiedino di nuovo Manfrotto è un treppiede di metallo è costruito bene io lo adoro questo se gli vogliamo trovare un difetto ha dei piedini di gomma piuma che sono attaccati con una colla e vengono via subito quindi in questi magari bisogna andare a prendere dei feltrini e rimpiazzarli quanto prima perché vengono via pressoché immediatamente questo non sono sicuro che si trovi ancora perché ho visto dei modelli nuovi che forse l'hanno rimpiazzato però comunque si trova cose di questa fascia di prezzo non so come lo vendano ormai questo qui una volta era un treppiede da fotocamera point and shoot quindi da fotocamerina compatta il passo della vite è lo stesso la superficie d'appoggio è pressoché la stessa del treppiede che vi ho fatto vedere precedentemente quindi diciamo che questa è una base d'appoggio adattissima per una fotocamera compatta va benissimo per una mirrorless leggera quindi con una mirrorless piccola come una Canon serie M oppure anche con una serie R con un obiettivo piccolo se abbiamo una Canon EOS R con il 16mm 2.8 lo montiamo tranquillamente su una soluzione come questa perché lo regge benissimo il peso se cominciamo ad andare su un 24-70 lì non importa che camera stiamo usando un 24-70 questo non lo regge più perché è troppo piccolo quindi dovunque noi lo mettiamo si gira, si ribalta quindi lo possiamo, attenzione, lo possiamo usare lo stesso perché se siamo su una superficie piana mettiamo la nostra mano e lo teniamo in posizione possiamo montare anche il nostro 24-70 e lo tiene però dobbiamo stare attenti perché se appena togliamo la mano pam, la lente va giù e picchia sul frontale quindi non è una bella cosa se lo usiamo per questo dobbiamo stare un pochettino accorti questa è una situazione non di emergenza di più ancora nel senso che questo qui proprio ce lo siamo ficcato in borsa per sbaglio pensavamo di usarlo magari per fare una posa lunga con la nostra camerina point and shoot se invece vediamo che la scena è così diliaca che la vogliamo fare con la nostra full frame possiamo farlo ma dobbiamo stare molto attenti io questo lo usavo appunto per fare fotografie e fare pose lunghe con una point and shoot che nella fattispe c'era la Canon Powershot G15 una delle camere più belle che io abbia mai avuto in vita mia compattina, piccola però era una compattina di fascia alta infatti aveva anche il suo bel prezzo e quella montata qui sopra faceva delle pose fino a 15 secondi non arrivava neanche a 30 secondi però pose da 15 secondi sopra questo venivano fuori delle cose molto molto carine quindi si riusciva a fare un po' di fotografia notturna insomma erano i miei primi esperimenti e la usavo magari quando ero in emergenza o quando non riuscivo a portarmi una camera più grossa perché quella essendo piccola la portavo magari in posti dove non era permesso fare foto dove non era permesso entrare con l'attrezzatura professionale allora mi portavo quella e con questa combo riuscivo a fare assolutamente qualsiasi cosa era una camera abbastanza performante per il prezzo e le dimensioni che aveva anche per l'epoca io la utilizzo ancora oggi ogni tanto quindi è una camera di cui non mi vergogno assolutamente è veramente la regina delle compatte e con questa accoppiata si riuscivano a fare delle belle cose come vi dicevo però questo lo possiamo usare anche per fare altro questo è molto semplice ha una vite e qui la testa si muove si va a ruotare in posizione quindi possiamo fare la nostra inquadratura si riescono a fare un po' di cose con questo ovviamente siamo limitati dal fatto che le tre gambe non sono regolabili quindi queste vanno in posizione col peso della camera vanno a livello sul pavimento non possiamo fare niente non possiamo fare né movimenti né video è fatta solamente per lasciare la camera fissa in posizione quindi ci possiamo fare una posa lunga oppure lasciarla fissa e fare un video con quell'inquadratura che abbiamo scelto ma senza fare movimenti bene potrebbe sembrare che abbiamo un po' esaurito l'argomento perché vi ho parlato di tre tipologie principali che utilizzo abbiamo un po' coperto tutte le camere tutte le fasce di prezzo ovviamente siamo andati dal più grande e più costoso al più piccolo e meno costoso ma ho un'altra cosa da farvi vedere allora questo che sembra un bastone sabbipode in realtà è un monopiede siamo sempre su Manfrotto questo qui è un monopiede professionale quindi ha qui una base d'appoggio in gomma che noi possiamo usare quindi di nuovo se siamo su superfici che non dobbiamo distruggere perché è una location storica una villa, un museo possiamo usare il piedino di gomma centrale possiamo anche però liberare questi piedini che quindi vanno a darci una base d'appoggio più stabile e in questo caso quindi il nostro monopiede diventa uno strumento di posa abbastanza importante ha la base snodabile quindi possiamo questo usarlo per fare dei movimenti video non dico complessi però comunque possiamo fare delle cose anche abbastanza elaborate piantiamo la nostra superficie dopodiché andiamo a muovere la parte superiore dell'asta in maniera tale da fare i nostri movimenti se stiamo facendo video oppure possiamo tenerlo fermo se stiamo facendo fotografia possiamo utilizzarlo per fare delle pose semilunghe con un monopiede di questo tipo possiamo sicuramente realizzare delle pose fino a un quarto di secondo e magari se abbiamo la mano bella ferma possiamo andare anche sopra il quarto di secondo intanto fatemi chiudere i piedini qui c'è un meccanismo a molla per cui i piedini si tirano su e si ricacciano dentro al corpo eccolo qua allora come potete vedere qui abbiamo il laccetto per metterci dentro la mano se siamo a passeggio possiamo usare anche come racchetta o come arma quindi è assolutamente versatile la cosa interessante è come potete vedere questo monopiede viene sprovvisto di una testa infatti qui c'è una vite con un passo diverso che è quello più largo ma oggi vi voglio coccolare quindi vi faccio vedere anche l'ultimo pezzo ovvero questa questa qui è una testa video professionale infatti come vedete ha la maniglia per regolarla adesso andiamo a montarla così ve la faccio vedere montata come potete vedere si monta a vite molto tranquillamente track ecco e va in posizione a questo punto noi abbiamo il nostro monopiede che possiamo piantare in terra e qui abbiamo la nostra testa video e questo è interessante questa testa video ha il plate per posizionare la fotocamera con la doppia vite perché ha la vite col passo grande per le videocamere un po' più impegnative e la vite col passo piccolo per le reflex le fotocamere che tutti quanti abbiamo in casa quindi semplicemente svitando questa vitina si ottengono i due passi diversi qui c'è la vite per regolare il grip del plate quindi nel momento in cui io voglio bloccarlo la giro tutta se invece voglio sbloccarlo lo svito a questo punto il plate viene fuori e posso montare la mia fotocamera o videocamera qui abbiamo il lock quindi io qui posso bloccarla in una certa posizione track e lei è bloccata quindi non andrà più a fare tilt io invece posso sbloccarla e lei in questo momento tilta e tilta con una grandissima dolcezza perché questa è una testa video quindi io ho messo la mia fotocamera o videocamera anche professionale anche una reflex grossa con un obiettivo pesante questo regge tutto non teme niente io posso mettere la mia fotocamera qui sopra a questo punto faccio i miei movimenti di camera in maniera molto molto fluida e poi quando ho terminato nuovamente vado a bloccarlo per il trasporto o comunque per fare le mie fotografie statiche questo è un bello strumentino perché si colloca in una fascia un pochino ibrida nel senso che non è esattamente un treppiede non è esattamente per fare foto non è esattamente per fare video è per fare un po' di tutto e questo serve in dei momenti in cui magari il treppiede non è consentito portarlo con noi perché vi faccio un esempio esistono un sacco di situazioni città d'arte, musei in cui entrare con un treppiede è vietato con la motivazione che il treppiede comunque avendo un ingombro rischia di creare un intralcio per le altre persone un rischio per le altre persone tutto questo non succede col monopiede il monopiede è generalmente più tollerato perché non ha quell'ingombro ognuno di noi lo tiene fermo avanti a sé può addirittura passare per un bastone da passeggio se uno non è attento quindi è più facile farlo entrare in delle situazioni dove con un treppiede non vi farebbero mai entrare ovviamente non si può andare agli uffizi di Firenze con questo a fotografare la venere di Botticelli quello no, non te lo fanno fare ma lì per una questione di licenze eccetera eccetera e anche perché comunque essendo un posto molto affollato lì entrare con un'attrezzatura di questo tipo di nuovo genererebbe dei fastidi perché comunque andiamo a dare fastidio agli altri e rischiamo anche che qualcuno ci venga addosso e ci rovini la strumentazione quindi non sarà permesso tuttavia ci sono molti molti casi in cui uno strumento del genere può essere molto utile e tenete anche conto che questo consente di fare dei movimenti che con un treppiede normale non potremmo fare io posso per esempio piantarlo a terra e andare a fare una ripresa di tipo push-in oppure pull-out posso fare questi movimenti nel momento tilto la mia testa in maniera tale che la camera rimanga in asse se ho una camera con l'autofocus viene un lavoro della Madonna se ho una camera con il focus manuale posso bloccare l'autofocus in un dato momento così faccio il fuori fuoco a fuoco di nuovo fuori fuoco posso fare tutta questa serie di movimenti vengono tanto bene tanto quanto siamo bravi noi a farli perché lì è meccanico non c'è niente di digitale dipende tutto proprio dalla nostra mano quindi se siamo bravi abbiamo un po' di esperienza perché ovviamente all'inizio non siamo capaci ma ci prendiamo la mano all'inizio ovviamente ci verrà meno bene ma dopo comincia a venirci via via sempre meglio devo dire che il grip aiuta molto perché abbiamo un grip di gomma qui che è molto comodo abbiamo un altro grip di gomma qui che è comodissimo questo è veramente comodissimo e quindi riusciamo a fare dei movimenti molto molto carini oltre che riusciamo anche a portarci a casa delle pose un pochettino più lunghe perché comunque questo stabilizza molto il nostro scatto quindi se noi scattiamo posizionati su questo non dico che possiamo fare 30 secondi di posa però secondo me 2-3 secondi riusciamo a farli con una fotocamera posata su questo monopiede quindi questa è una soluzione ibrida che però ci permette magari di raggiungere dei posti in cui non possiamo portare il nostro treppiede quello più grande diciamo bene amici con questo è tutto io credo di avervi dato una bella carrellata una bella panoramica di quelle che sono le tipologie di treppiede che possiamo utilizzare nei nostri scatti non so se l'avete capito ma a me Manfrotto piace molto infatti ho comprato pressoché tutti i prodotti Manfrotto ma perché fondamentalmente mi trovo bene mi piace il fatto che sia made in Italy lo ammetto quindi in questo sono assolutamente favorevole al made in Italy e questa mi sembra un'ottima occasione per dimostrarlo anche perché qui abbiamo a che fare con dei prodotti di qualità veramente ottima quindi per qualunque necessità siamo in una botte di ferro sono prodotti che non ti lasciano a piedi che comunque performano molto bene performano bene anche nel tempo quindi è una scelta che assolutamente rifarei a questo punto se avete delle domande specifiche su uno o su tutti questi prodotti su come orientare la scelta quali sono i costi cose del genere io vi aspetto come sempre nei commenti lasciate anche un like a questo video perché sono sicuro che avete visto delle belle cose e vi sta venendo voglia di comprarvene qualcuno se già non ce l'avete a questo punto non mi resta altro da fare che ricordarvi di iscrivervi a questo canale così non vi perderete i prossimi episodi se attivate la campanella perché volete essere proprio sicuri che siete pigri e non volete continuare a tornare a controllare se ho postato roba schiacciate quella campanella che è pure gratis e io vi do appuntamento al prossimo video e io vi do appuntamento al prossimo video